Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi ho qualche chiacchiera sparsa da portarvi. Alcuni appunti che sto cercando di inserire qua e là nei buchi, come questo, perché oggi è una giornata buco, finalmente possiamo respirare. Non è un pre-partita, non è un post-partita, non è un match day. Ci avviciniamo al weekend che ci riporterà la Serie A per poi ritogliercela, perché poi in sera l'ultima pausa nazionale, poi penso fino a marzo, se non ricordo male, non ci fermiamo più, giochiamo sempre. E quindi ci sono alcune cose che mi sono salvato, ho detto bene, nel giorno in cui riusciamo a respirare un attimo andiamo a discutere. Partiamo dalla Champions. Si è conclusa questa giornata di Champions per la Juventus con un po' di rimpianti, e lo sappiamo, soprattutto relativi al risultato finale, non tanto alla prestazione, quella mi è piaciuta, è stata convincente, è una prestazione in crescita, è una prestazione di una squadra che vuole vincere le partite, è una prestazione anche di una squadra che in questo momento le partite fa fatica a vincerle. Queste due cose sono concatenate, perché la Juve mostra tanta voglia, tanta intensità, tanto anche coraggio nel cercare di andare ad accaparrarsi la vittoria, risultato massimo a disposizione, però è l'ennesimo pareggio. Io credo che queste due cose siano strettamente collegate e questo è un piccolo campanello, un piccolo grande campanello d'allarme per la Juventus, che però ha iniziato un progetto e quindi ha necessità di pazienza per arrivare ai risultati che speriamo di ottenere e io, come ben sapete, non vedo l'ora di continuare a dare questa fiducia, questa pazienza, anche se poi le cose le diciamo, non è che diciamo no, è tutto perfetto, no, diciamo le cose devono migliorare, ci vuole pazienza, siamo all'inizio, questa credo che sia l'analisi più giusta. La classifica della Champions è una classifica interessante, perché la Juventus comunque ha ancora la possibilità di arrivare a qualificarsi nelle prime otto e avremo anche due partite importanti contro due squadre inglesi, contro la Stoneville e contro Manchester City, che in questo turno hanno perso pure loro, il City è un discorso a parte, ha straperso dallo Sporting, ho visto invece il rigore che ha subito ieri sera la Stoneville con cui ha perso la partita, il difensore che va a prendere il pallone con le mani e lo riposiziona, mi viene da ridere, lo riposiziona nella porta del portiere per far iniziare l'azione, ma in realtà il portiere aveva già battuto e quindi la palla era già in gioco e quindi calcio di rigore in questo modo è veramente una cosa assurda, una cosa che difficilmente si vede su questi campi, sui campi della Champions League, ma questo è, quindi comunque la Stoneville che perde per questo motivo qui e non per chissà quale tipo di demeriti sportivi sarà un osso duro, però la Juve ha la possibilità di qualificarsi ancora nelle prime otto, così come ha la possibilità di andare ai playoff, indubbiamente. Queste sono le due possibilità più grandi secondo me giunti a questo punto per la Juve, è ovvio che se inizia a non vincere più nemmeno una partita viene eliminata e basta, non passiamo neanche dal via, però credo che la classifica non sia disastrosa giunti a questo punto, perché vedo che ci sono tante squadre che stanno facendo fatica, se da una parte abbiamo il Liverpool, il Barcellona, l'Inter, che stanno comunque facendo molto molto bene in Champions, e sono ai piani alti, lo Sporting Lisbona. Dall'altra parte abbiamo Real Madrid, il City, la Juve, guardate anche solo banalmente il PSG, quanta fatica che sta facendo, quindi ci sono tante squadre che in realtà sono posizionate sotto lo standard che potevamo attenderci, e poi c'è la Juve che è lì in mezzo, oscilla insieme al Milan e all'Atalanta, un punto in più, un punto in meno, comunque siamo lì, una squadra che la Juve ha ancora tutte le sue carte da giocarsi, non si è rovinata completamente la Champions con questi due risultati, un po' così, perché abbiamo visto che tante altre squadre alla fine non hanno quella continuità necessaria per accapparrarsi i punti, quindi la classifica di Champions che ancora può dire la sua. Nico Gonzalez, ok, dovrebbe rientrare in occasione del derby della Mole, e ora vedremo Tiago Motta in conferenza stampa che cosa andrà a raccontarci, però c'è questa possibilità, è molto probabile che sia così, anche perché Nico Gonzalez era stato convocato dalla Nazionale Argentina. Io non ho fatto video, non ho espresso opinioni, non ho scritto tweet, non ho detto niente su Nico Gonzalez, mi sono morsicato la lingua e ho detto voglio aspettare un attimo, perché se davvero questo prende e parte con l'aeroplanino e va a fare il ritiro con l'Argentina dopo un mese praticamente che è fuori, un mese abbondante che è fuori con la Juventus, in cui è stato indisponibile, in cui deve recuperare e appena rientra l'infortunio va a giocare con la Nazionale, non rispondo delle mie azioni. Quindi mi mordo la lingua un attimo e aspettiamo di vedere, perché poi si rischia di fare dei danni, avevo la speranza che Nico potesse rinunciare la convocazione. E così è stato, meno male che non sono andato a fare la polemica che quel fuoco che avevo dentro di me che stava bruciando e dicevo no, devo mordermi la lingua. Meno male che sono stato zitto, meno male che è andata così, tutti belli e contenti. Mi viene in mente una domanda da farvi, ma quando torna Nico Gonzalez, quando tornerà? A destra, chi ci giocherà? Sembra un ritornello, una filastrocca, ma non è così, anche se abbiamo fatto la rima, perché comunque la Juventus è sbilanciata sulla destra e meno sbilanciata sulla sinistra. A sinistra abbiamo Bangula e Ildis, due prodotti del settore giovanile della Juventus. A destra abbiamo Consessa, Uea e Nico Gonzalez. Quindi capite bene che la corsia di destra ha più abbondanza rispetto a quella di sinistra. Uea l'abbiamo già visto anche a sinistra, l'abbiamo visto spostato sull'altra fascia. Siccome quella posizione la può ricoprire anche Nico, che sta giocando anche con la Nazionale Argentina in quella posizione, perché Messi parte da destra ed è naturale che ci giochi Messi piuttosto che Nico, ad ogni modo mi viene da pensare, a destra giocherà lui o con Seisao? Cioè se dobbiamo immaginarci un titolare, chi è? Poi l'abbondanza va benissimo e meravigliosa, anche perché in questo momento di abbondanza ne abbiamo avuta poca, quindi se torna nei giocatori meglio è. Però la domanda che mi faccio è principalmente chi ci giocherà? Cioè nella testa di Tegomotta, chi sarà il titolare? O magari qualcuno si prenderà e si alzerà al posto di Vlaovic e inizieremo queste rotazioni di Vlaovic di cui stiamo parlando in questi giorni, di cui abbiamo parlato pure ieri. Queste sono un po' di domande che ho in testa, anche perché la Juventus, a me sembra dare il meglio di sé, ormai abbiamo già visto un buon numero di partite della Juventus, abbiamo un po' di campioni ed esposizione per la Juve, sembra dare il meglio di sé quando si chiude dietro e quando riparte, oppure quando attira, come avevamo già spiegato già quest'estate quando analizzavamo il buon numero di Tegomotta, spiegavamo come il buon numero di Tegomotta era arrivato a determinati risultati, quando attira la pressione dell'avversario, crea spassi e riparte. Però le squadre avversarie, in maniera molto intelligente, sanno che la Juventus fa fatica quando le squadre sono chiuse e quindi cosa fa? Aspetta dietro, si chiudono, non vanno loro a pressare, non vanno a creare loro lo spazio per la Juventus, vanno a fare una fase di pressione abbastanza basilare e quindi la Juventus poi va a incastrarsi da quel punto di vista. La Juventus che deve migliorare ovviamente a difesa schierata, deve migliorare nella precisione dei passaggi, no, nella precisione dei passaggi no, nella velocità dei passaggi, nella velocità di esecuzione dei passaggi, che sono due cose diverse, mantenendo la precisione, perché la Juventus oggi è la squadra più precisa in Serie A per precisione dei passaggi. Però le ripartenze mi sembrano quella chiave di volta che può migliorare la Juve. Allora mi viene a dire, con CSAO diventa un giocatore imprescindibile per questa Juve, tant'è che la Juventus è migliorata tanto nelle ripartenze siccome inserendo con CSAO, che per caratteristiche ha una ripartenza abbastanza interessante. Quindi, Nico è un giocatore più di palleggio che da ripartenza o può comunque inserirsi anche all'interno di quel contesto? Perché secondo me la Juve non sarà mai una squadra puramente di palleggio o puramente di ripartenza. Andrà a prendere un po' spunto da tutte e due le cose e andrà a intercambiarsi all'interno della partita a seconda delle posizioni perché la Juventus, questa Juventus qui, mi sembra più una squadra completa che cerca di fare un po' tutto nella maniera migliore possibile ma che non è specializzata in una sola cosa. Così come il campione di partite che abbiamo avuto a disposizione, mi viene in soccorso in un ragionamento perché tante volte ci siamo detti inizio anno che la Juventus è soltanto sulla carta era 4-2-3-1 perché la Juventus era un 4-1-4-1. Ecco, questa cosa è cambiata nel tempo, questa cosa, questa frase, questa analisi che potevamo fare in estate oggi non è più vera, la Juventus spesso e volentieri gioca con il 4-2-3-1 anche nell'ultima partita credo che sia stato estremizzato questo concetto di 4-2-3-1 addirittura a volte sembrava un 4-2-4 perché Comainer sarà molto vicino a Blauvic e allora io credo che la discriminante sia una e una sola e la risposta è banale ma è la composizione del centrocampo ancora più nello specifico le caratteristiche individuali dei calciatori che compongono il centrocampo vado a spiegarmi meglio penso a Juve Como ce l'avete a Juve Como in testa ve la state ricordando vi ricordate la formazione vi ricordate se devo chiedervi il modulo e lo schieramento Locatelli e Turama centrocampo questo era stato ve lo ricordate poi Turama si fa male esce Turama dalle rotazioni la Juventus deve iniziare un pochettino a cambiare cambia proprio la forma la sostanza del centrocampo e vediamo il ritorno spesso volentieri anche al 4-1-4-1 torna Turama Locatelli non lo muovi perché Locatelli è un titolare inamovibile per Tiago Motta e la Juventus torna a giocare 4-2-3-1 quando l'altra sera esce Turama e al suo posto entra McKennie la Juventus torna con una sorta di 4-3-3 o 4-1-4-1 che dir si voglia perché McKennie sul centro-sinistra si alzava insieme a Cobb Mainers e tutti e due andavano a formare quella linea 4 retro Vlaovic che poteva essere visto anche come un 4-3-3 con McKennie e Cobb Mainers come mezzali quindi davvero come interpreta la partita la Juventus dipende tutto dalle caratteristiche che i calciatori che Tiago Motta mette a disposizione secondo me la Juventus funziona meglio con il 4-2-3-1 piuttosto che con il 4-1-4-1 è anche vero che quando non c'era Cobb Mainers a disposizione era McKennie che faceva tra virgolette il trequartista l'incursore e la Juventus con Turam e Locatelli si metteva sempre a due e McKennie faceva il finto trequartista perché ogni tanto si alzava Turam però era McKennie quello che si lanciava dentro lo spazio quindi davvero ogni volta che cambiano i centrocampisti a disposizione di Tiago Motta tranne Locatelli che penso che soltanto in Juve Lipsia non sia stato utilizzato Locatelli se vado a memoria forse ce n'è stata anche un'altra ripartita ma Juve Lipsia sicuro è forse un'altra ancora forse il Genoa adesso mi sfugge non me la ricordo ad ogni modo tutte le volte che Tiago Motta cambia un centrocampista la Juventus cambia proprio di fisionomia è una squadra differente appare una squadra diversa Tiago Motta ragiona molto sulle caratteristiche dei suoi centrocampisti Tiago Motta ci ha spiegato a più e più riprese che per lui è fondamentale analizzare anche le caratteristiche degli avversari perché ogni partita è diversa da quell'altra e quindi questo secondo me diventa un argomento di discussione interessantissimo nel cercare di costruire quello che è il centrocampo ideale nella testa di Tiago Motta di media perché poi l'abbiamo detto lui a seconda della partita a seconda dell'avversario va a sostituire va a cambiare però poi in testa una media quella che per lui sarà la formazione migliore ce la dovrà avere quindi questi sono un po' di appunti sparsi che avevo in testa nelle ultime settimane un po' di cose che mi avete fatto ragionare anche voi nei commenti perché tante volte tra i commenti si nascondano delle piccole perle che hanno bisogno di risposta è anche difficile poi dare una risposta secca subito così e allora il cervello inizia a girare girare dice bene questa è una considerazione interessante uno spunto di riflessione che merita un approfondimento cerchiamo di ragionare ad alta voce mentre facciamo un video cerchiamo di dare delle risposte di toccare quante più corde possibili per riuscire a contentare tutti queste erano cose che volevo condividere con voi ora sono curioso però di sapere la vostra considerazione qui sotto nei commenti in attesa di quello che sarà un derby d'Italia che andrà a chiudere questo ciclo di partite tra ottobre e novembre per poi ricominciare la prossima con ancora la Champions League Aston Villa quindi partita molto delicata e anche il Milan quindi la Juventus è in un momento in cui non può scherzare siamo già nel momento caldo della stagione ci siamo arrivati pian pianino ora iniziamo veramente a tuffarci il momento caldo della stagione ciao ragazzi grazie